salve sono il principe del crimine ma di mio sinceramente detta come va detto sono il principe del cremino questo è un gelato molto buono comprato alla conad confezione non vendibile singolarmente ricoperto al cioccolato mentre tu sei solo un cretino pazzesco mi ha contattato una donna dice che vorrei dice che vorrebbe che le spalmassi la crema vabbè su questa crema possiamo discuterne non è sicuramente una donna che fa al caso mio perché non appartiene come si suol dire la crema della crema ok zack snyder dice addio al cavaliere oscuro di artur fleck joker sei stato il miglior batman di sempre ma scusi falotti con lei da quando è che fa il comico da sempre ciao amici e artur fleck joaquin phoenix alias joker marino il vero stefan falotti che vuole confidarsi con voi e farvi leggere questa mia lettera commossa in risposta a quella altrettanto commovente del mio amico zack snyder zack snyder regista che devo ringraziare perché mi ha fatto capire davvero che clint eastwood è un genio e quando girerà un film come batman contro verso del superman si clint forse sarà davvero morto rendo grazie al suo cinema non quello di clint non c'è bisogno di ringraziarlo clint oramai è asceso alla vetta ma no no grazie al cinema di zack perché guardando i film di questo carissimo amico inseparabile compagno di merende quando ero talmente depresso che mi ero tanto rimbambito da perdere la testa per kate beckinsall di pearl harbour e stavo impazzendo di amore estremo per jennifer lopez ho capito cosa mi piace davvero nella vita beh sì qualsiasi maschio normo dotato eterosessuale di sana e robusta costituzione credo che per la beckinsall o per il culo di jlo si jlo sarà anche tamarra però quando c'è voce vò e soprattutto possa davvero non solo perdere la testa ma i testicoli vero ok ma finita la scopata storica in queste due gnocche micidiali che cosa ma tu sei un porco non ho sentito bene cosa hai detto la scopata storica in queste due fighe della madonna pazzesche incredibili infinite che cosa ti rimane è capace poi che chiedono di sposarti e ce l'hai i soldi per regalare loro una vita spensierata to the wonder si una vita meravigliosa idilliaco e fa l'amore da mattina sera e non sei invece al vertice della tensione perché devi pagare troppo bollette di paycheck no queste sono patonze che esigono una vita lussuosa stracolma di felicità e belle cose tante buone cose e queste ti salutano infatti è capace che se poi le trascuri ecco ti scappano di casa come quell'altra super figa ciclopica super figa ciclopica di rosamund pike dell'amore bugiardo e ti va fatta bene perché dovesse accettarti nonostante tu sia un po sfigato no come nella versione di barney e poi ti lascia per il tuo miglior amico e perdi oltre che i soldi anche il cervello va bene se la tua donna impazzita perché non te ne sei preso sufficiente cura eri ridotto talmente sull'asico che ti sei dato pur di sbarcare il lunario a una vita da the town diciamo non propriamente in te jerry ma no è colpa di questo sistema marcio da state of place sognavi di essere superman in una all of the land e invece hai scoperto che sei stato solo preso per il culo come nel joker appunto appunto sei stato troppo fuori dalla realtà comune di tutti i giorni per poter ripartire da capo con entusiasmo come dice robert de niro a proposito del joker negli intoccabile entusiasmo entusiasmo ora dopo tutte queste vere o presunte ipotesi di reato è davvero dura amici cari dura 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 una resilienza enorme e con immane forza cerco sì di resistere giorno dopo giorno a volte buttando la ridere per non pensarci per non penarci a volte praticando meditazione trascendentale per non trascendere e dar di matto sul serio difficile rivederla con occhi giusti dopo tanto buio sì funambolico estroso e geniale come dar devil ma anche tanto cupo e sofferente adesso sono arrivata quasi 200 cigarettes a john non va bene per i portafogli e nemmeno per la salute che non voglio dire che molta gente sia stata più fortunata da me e che la loro fortuna sia piovuto da cielo no 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 ma è inutile piangere sul latte versato e su tanti equivoci vettabili che hanno fatto sì che non potesse vivere fino in fondo adesso faccio un po come la scozolata devo esservi sincero non posso più torciversare a ceracci attorno mi aspetto soltanto un armageddon giudizio finale l'avete un dogma ci sono delle precise regole a cui devi devi abdicare soccombere a tenerti e non esiste una libio scappatoi da runner runner che anche lì c'è quel pezzo quello che parliamo della figa per excellence gemma gemma artitone i critici letterari sostengono che i miei libri siano bellissimi molto romantici in stile shakespeare in love ma gwyneth non verrà mai con me ci sta e sarai pazzo a credere il contrario è lì sì che sarei davvero pazzo per lo stesso discorso fattovi all'inizio gwyneth detta ginetta e reginetta è una riccona viziatissima che se ne fate uno scrittore squattronato diciamo la signora che se ne fa da me non le posso garantire nessun futuro non sono mi con un strunz da un chilometro da wall street e non sono pure maddemon eh ma rimango pur sembra anch'io a mio modo diciamo così sì 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 will hunting genio ribelle nonostante tutto non mi sono mai a reso mi conoscete sono spiritoso totoyano nel senso di to 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 ho secondo molti un talento smisurato nella scrittura come vi ho detto e le donne dicono che abbia perfino però però un gigantesco pipistre a differenza di michael keaton del batman di tim burton no credo che non scoperò però nessuno kim basinger parliamo di un'altra adesso però lo sa bene alec baldwin e alec e ho detto tutto ma non mi si suiciderò neppure come burman sì zack zack ma scritto questo eh sì 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 le cose sulla terra cadono e quel che cade è caduto la caduta degli dei nel sogno questo mi ha portato alla luce ma che significa nel sogno questo mi ha portato alla luce scusi eh vabbè una meravigliosa bugia il miglior batman di sempre grazie amico mio per avermi fatto dono di quel momento fottutamente glorioso e di un cuore così stupefacente sì tu sei un puro come no lo prendi sempre in culo però hai un cuore straordinario come dice appunto la sconsolata sì mi ami ma se non mi arrivi al cuore sì la gente pazza e demente oh sì sì o non voglio vantarmi non aspetta a me giudicare il mio talento dovessi mai averlo meno ma la gente me lo meno no no ma la gente no mi meno aveva di fronte una persona diversa senza il chiodo fisso delle passerine e ambizioni cremine no cretine come quella di far soldi fregando gli altri scuole le competizioni da bambini asilo nido ma secondo questi qua tal persona c'è stato scritto medesimo di persona come diceva un totò doveva normalizzarsi e diventare un troione quasi e se mica mica uno che scrive libri un buttaniere dai che va a veder che c'è il salone che diceva fangula mamma ha un lavoretto in guleggi corriere dello sport non è caso si organizza per portarsi a letto qualche sciocchina ballando con le stelle ma si balliamo dai così che anziché darman forte ha un cuore selvaggio e a proposito di cuore selvaggio cuore selvaggi non è male quella lì come si chiama colare selvaggio quella lì non è male no 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 cuore selvaggio adesso arrivo su su nick cage preferì e preferisce credere ancora e ancora e ancora come dice metty mcconic in rust con ancora e ancora e ancora che io sia un supereroe fanatico dei personaggi televisivi come un vecchio rimbambito ebbene a qualsiasi velen figlio di troia che abbia voluto sfidarmi sono qui sono più veloci di te più intelligente bello come ben affleck ma insomma quasi quasi diciamo all'incirca no e ora preparati davvero eh eh ti lancio la sfida la prossima mossa fa un sidioti sbatti in manicomi eh chi tu povero fantoziano schizofrenico paranico manico compulsivo cacassotto di merda non c'era un altro fese no vabbè tu sei convinto davvero che dall'altra parte la berrigate della tringea tringeriamoci fenomeno ci sia la persona che che pensi ci sia sto scherzando ma certamente certamente ma non fate più le merda eh non fate più le merda se no vabbè e adesso fra un po ci saranno gli oscar sì domenica domenica ci saranno gli oscar domenica è sempre domenica passiamo a quest'altro pezzo via da Las Vegas come dice Gerica là in vacanza in America ma questo non è Las Vegas questa è Las Vegas a perdere tutto eh remake falottico falottico di di living in Las Vegas ma che significa remake falottico uè allora il termine falottico lo vado a cercare nel vocabulario cercatelo appunto nel vocabulario significa bizzarro stravagante centrico forse burbando eh che via da Las Vegas è un film super volutato con un oscar sinceramente regalato a Nick Cage ma quando ha pagato sua zia Francis Ford per dare l'oscar ma per fargli fare appunto la figura da bella statue in Dukaz a signor Nicolino durante la cerimonia degli oscar fra l'altro è accaduta una cosa inusuale la signora Shue no oddio oddio qui mi prende veramente un infarto io non posso vederla questa Elizabeth già il nome vabbè signora Shue una delle una delle donne che sembra maggiormente sognato di scopare diciamoci si alzate in piedi mentre il mio appena appena io la vedo si alza si si alza e come incitando anche Kevin Spacey ad alzarsi si si basta con i moralismi puritani eh Spacey è un grande aiutatelo a tirarsi su adesso servitegli un tiramisù vabbè per colpa dei vostri soliti sospetti usual suspects la sua carriera è andata a zoccole ma che poi manco ci va a zoccole questo Kevin Spacey ma ecco si lascia già già il cognome citante Shue Shue che tutto me lascia Shue 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 davanti a una biondona così come fai a non desiderare la donna d'altro no no che avvenga quello che intravedete in questa scena questa scena signor Nick Cage si fa fare un bombo no direi molto di più si è detto per inciso secondo voi la Shue Shue usa anche gli ingesivi quando succhiandano le vittime non necessita la pulizia delle carriera dentista smacchiamde una smaltatura smagliamde torniamo al fortunello Nicolas Kim Coppola Nicolino scusate un po' di tosse ho detto che fumo anzi 201 sigaretta John quell'anno avrebbe dovuto vincere Anthony Hopkins con Nixon gli intricate poter mi fate ripetere sempre le stesse cose ma per via del fatto che solo qualche anno prima Hopkins aveva già vinto la statueta che ha migliorato la protagonista per il suo epocale Hannibal Lecter del silenzio e l'innocente l'Academy l'ha fatto perdere a post i bis eh sì l'Academy a parte qualche miracolosa eccezione vede la doppia consecutiva di Tom Hanks per Philadelphia Force Gump non lo concede mai mai e poi mai e non transisce, non vuole accettare ragioni come si suol dire, una delle regole auree, sì l'Oscar è o non è dorato è non premiare lo stesso attore a distanza di così poco tempo anche se quest'anno tale regola, non scritta ma applicata verrà confutata ancora perché con estrema probabilità il maresciallo, Marshall Ali vincerà con Green Book eh sì, vincerà dopo Moonlight la doppietta signora, da me cosa vuole? la doppietta o la tripletta? ma che modi sono questi? se meritava lui? cioè Endone? meritava Endone eh, Antonio? meritava lui? portate rispetto anche la patente di Sir parliamo di un gran signor amico di un frutto vendolo qua frutto vendolo qua sì sì eh che sono questi imbrogli? uè chi ha mescolato male le carte? è stato i jolly i joker appunto no è stato Warren Beat con quella ringoglionita Fight Dunaway sì, Truffadino, Mane Gold ritorniamo a Moonlight eh a La La Land Bonny e Clyde a Gangster Store pure il bidello sì sì è stato il bidello è stato il bidello del ginnasio invidioso di Hopkins in stile Erection no no che Erection in stile Election da mediocre Matthew Broderick o invece è stato McHibson di Maverick ma e perché non avete mai premiato Malick? oh andiamo molto male però quest'anno premieranno Malick sì sì Rami Malick sì sì Sandoni meritava tutto il pezzo di torta e perché avete dato questa fetta di gloria a Nick? oh il Nick di questo film comunque non aveva in effetto tutti i torti eh no 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 ritorniamo a Totò no? Chiavretta è femminile eh sì il plurale maschile di torta non è torti torta singolare femminile plurale torte ci sta maschile plurale torti torti vabbè e si lo sa appunto Totò con Peppino della malafemmina questo Nick nel film è un bravo uomo che ha sempre rispettato tutti si è dato anima e corpo appunto appunto come un dannato a scrivere sceneggiature dannata quando si nel cinema si dice questo è un film dannata questa è una sceneggiatura dannata si è dato come un dannato scusi sperando di bloccare una giusta per fare il salto in avanti per la cosiddetta svolta ma infingardi malefici produttori stronzi gli cassano ogni progetto però Nick Cage non si ingazza si rassegna più che altro al che Nick perde appunto la brocca e se ne fotte di tutto oltre a perdere la brocca diventa anche sboccato si 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 vede una donna che ha anche una certa età una milf e lui cammina sexy sexy comincia a provocare le donne a tamburo battente appunto cantando d'alta voce al supermercato disprezzando chiunque perché si lui si è sempre comportato in maniera corretta secondo un riguardoso far play nei confronti del prossimo ma non meritava non solo l'Oscar questo è un altro discorso che non è quello del re e non il suo di ringraziamento ruffiano sul palco quelle caculo anche Nicolino ma soprattutto l'affronto ricevuto da una comunità di ipocriti come diceva scorosso ipocrita e irriconoscenti non meritava affatto l'ottuso linciaggio porco sbattuto gli in faccia quindi a quel punto capisci che si accenta ha lavorato soltanto perché diciamo diciamo perché la da Marvel e Washington denunciando poi quest'ultimo da vera donna di malaffare si l'amma la malafemmina e Michele e questo film mi fa anche pena una poveretta violentata oltre che dalla vita pure da dei ragazzini scemi e della sua bellezza non sa che cazzo farsene e cazzeggia di brutto insomma dicemcel se ne sbatte questo Nic altamente coglioni tanto sa che la sua vita soprattutto in quell'ambiente appunto di leccacule merdosi fake è finita se mai fosse iniziata capisci che forse la prostituta sera è rosso di sera bel tempo si spero rosso di sera con questa sera che nella versione italiana è semplicemente Sara Sara svegliate prima per come andava dunnello vendite rosso di sera si con questa Sara di sera diventa veramente rosso anzi di notte è meno in realtà meretrice di quelle finte santarelline oh sono una donna pia si si come no credo anche in padre pio che si spaccia per grandonna in vera da mattina a sera non solo hanno pensieri pervertiti sugli uomini e sul sesso ma nascondo il loro animalesche sincerità su via non c'è niente male in fondo se siete un'involvimento basta dire tanto lo siete dietro facciate moralistiche appunto da femministo del cazzo ben 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 cage capisci ben capisci ben che il mondo è davvero corrotto ed è una merda e ha sprombattuto come un kamikaze della sua anima va incontro così via passi serenamente alla morte non vai incontro secondo me se andavi incontro a una donna tranquilla semmai di nome serena come serena grandi forse poteva ritornare un grande non prima però di aver smerdato tutti anche solo stando zitto perché di fronte a un muro di gomma è un'unica alternativa chiudila qui chiuderla qui perché tanto non te stanno ascolta ma in maniera d'ascending ovation si lo stesso anno di via da las vegas uscì anche casino discorsese fin decisamente superiore parliamo discorsese mica di di un figo qua sì sì eh cioè di un qual è il plurale a proposito di plurali inglese di figo me lo sono sempre chiesto non esiste proprio la traduzione corretta il plurale ve lo dico io qual è il plurale inglese di figo è figis mike figis non è che Sam Rooney e De Niro facci una fine migliore non crepa fisicamente ma nell'animo sì comunque sia Cage che De Niro almeno prima della disfatta totale si sono fatti due passerone incredibili scusate che cosa volete più della vita vi siete fatte la Elisabeth e la Shadow Stone dei tempi d'ora appunto che ve ne fate la statuette eh vabbè butta via come dice il grande Clint Eastwood Million Dollar Baby non dice proprio così ma avete capito il senso il 90% della gente non arriverà mai lì e voi qui siete maliziosi perché quando io dico mai lì voi pensate sempre appunto la la cosa lì 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 nel senso ad alti vertici non avrà mai insomma la possibilità di vincere l'Oscar come Hillary Swank eh sì se le sogni anzi molti sognano ormai soltanto di arrivare a fine mese qua è duro è veramente duro uuuuh quanto sacrificio non dice proprio testalmente così ma avete capito appunto e ho detto tutto come sostiene il detto proverbiale ogni lasciata è persa ma è persa davvero boh sì e ogni lisciata dico io è una sola è una sola eh no è solo è solo una furba leccata da paraculi in fede il genius pop uno che da questa società non si aspetta molte sorprese ma ci crede come no in vero neanche un pop neanche scusate neanche un pop ha 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 do you have a problem with that no sensei no mercy No, no, no. E' un nuovo champion, Daniel! You're alright with yourself. Thanks a lot. Daniel! Hey! That's Mr. Miyagi! We did it! We did it!